Eccoci qua, adesso mi sono arrivati gli spiedini, qua c'è un fastidioso qua, i soliti hooligans schifosi che ti rovinano la serata ogni volta. La fuori c'è una povera, come vedete, senza tetto che si è accampata lì fuori vicino alla mia e-bike. E noi facciamo qua la nostra cena con dei spiedini evitando tutte le fastidiosi, adesso questo torna a darmi fastidio. No, qua facciamo la cena e questo è tornato di nuovo a darmi fastidio, comunque noi ci mangiamo, ci mangiamo. Guardate che fastidiosi che sono, giusto per farvi capire. Tanto fastidio danno quando sono ubriachi. Non gli ho detto niente, è venuto a sedermi a tavola e sputa, potremmo sputare la tavola. Guarda la roba. Come vedete, non gli ho ne parlato. In Italia uno così si prende una sberla in faccia, no? Andate qua abito a stare fermi. Così. Coglimela. Da stare fermi e... Coglimela. E questo che continua a stressarmi. Allora, poi sputare per terra. Coglimela, coglimela. Allora, coglimela. E vi voglio sputare. E in giaccio, in giaccio. In giaccio. In giaccio. Il viago perso. Coglimela. Mi faccio vedere la faccia per non svergognarlo, ma è una roba incredibile. E in giaccio, in giaccio. Guarda. Se lo vedete qua, è speso 12 euro per essere disturbato tutto il sereo. Sì, sì. Questo è arrivato in calamaro. Come vedete, questo continua a disturbare, ma io faccio finta di niente. È arrivato il calamaro. Calamaro alla griglia. Mangiamo. Con una salsa barbecue al posto. Buono. Buono. Ah, le zanzane sono già. Buono. 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 Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 No. No. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.